Qualche giorno di feria e poi bisogna rituffarsi nell'avventura Genoa, un progetto che da quando è tornato è tornato a vivere momenti esaltanti, soprattutto passando per la valorizzazione dei giovani, tra questi giovani ce ne sono due. Uno è passato da Pescara, parliamo di Perinne che adesso è dall'altra parte del mondo magari a far sognare tutti quanti noi, l'altro, Ragusa, potrebbe arrivare. Sì, questo è anche un bellissimo segnale tra Pescara e Genoa, sono due ragazzi che io conoscevo già nella mia precedente esperienza a Genoa, perché facciano parte di una primavera che ha vinto veramente tutto, si allenavano spesso con la prima squadra, sono venuti in ritiro già con me, e poi Perinne ha avuto questa esperienza quest'anno fantastica, che l'ha portato al Mondiale in Brasile. Per Ragusa vedremo, speriamo, perché dovranno parlarsi le due società, un ragazzo di valore, potesse ripetere anche in parte la strada che ha fatto Perinne, sarebbe fantastico. Bocca al lupo! Bocca al lupo! Grazie a tutti.